bernie bernie ascolta cosa c'è l'autaro pallone d'oro settimo posto settimo posto ha fatto il nostro capitano bravo è settimo posto si ventesimo posto due dell'inter settimo ventesimo posto a te capi qualche calciatura su felice dei macachi e dei gobbi di me niente ma come no c'era anche leao e vlaovic niente no niente non li hanno nemmeno cagati di striscio poverini poveri poveri niente i macachi leao leao io speravo leao che c'era oppure hernandez grande campione dei gobbi calullo calullo nemmeno vlaovici io guarda io avrei detto fra i ventesimi fra i ventesimi vlaovici dove poverini quelli che ieri hanno fatto la sfilata perché hanno pareggiato 4 a 4 ma allora è vero hanno fatto la sfilata dai guardiamo il film che è meglio va dai sì ma ma non parliamo di questi qui buonanotte